Il calcio italiano a livello giovanile, mister? Ci sono dei buoni giocatori, dei giovani interessanti, siamo in un momento di crescita, ci sono alcuni che stanno venendo fuori pronti per la nazionale giovanile e soprattutto per la nazionale A. Per cui ci sono dei buoni insegnanti, la cosa più importante però che mi sembra di aver mettuto in evidenza è che ci sono molti stranieri nel settore giovanile, le società vanno già a cercare i giovani stranieri e li portano in stradale. Quando vedi delle squadre della primavera che è la porta d'accesso alla prima squadra o a livello professionistico con 6-7 stranieri, 8 stranieri in squadra, questo mi fa un po' pensare che non abbiamo lavorato tanto bene a favore degli italiani.